C'è anche l'ASL 2-4 nel mirino della Procura della Repubblica, per gare truccate, frodi nelle pubbliche forniture e corruzione. L'operazione della Guardia di Finanza di Torino è denominata Molosso. A seguito dell'analisi dell'ingente materiale e probatorio sequestrato durante le attività di perquisizione effettuate lo scorso mese di maggio, i finanzieri hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare. Disposte dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del Capoluogo Piemontese, nei confronti di pubblici dipendenti, commissari di gara ed agenti e rappresentanti di alcune imprese accusati, a vario titolo, di corruzione, turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture. Le indagini hanno preso il via a seguito dell'accertamento di un ammanco, presso l'azienda ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, per un valore di circa 300.000 euro, di un costoso prodotto farmaceutico, causato dall'incaricata di un'impresa torinese che si avvaleva della collaborazione di un pubblico dipendente infredele il quale falsificava documentazione amministrativa in cambio di generose tangenti. In tale contesto, è emerso un collaudato ed articolato sistema di interazioni fra soggetti privati e commissari di gara delle ASO, finalizzato a truccare le gare d'appalto. Nel mirino sono finite, in particolare tre gare bandite. Dalla città di Torino ASL Tu4, per la fornitura di camici chirurgici sterili monouso, in cui è stato accertato che alcuni membri della commissione della gara d'appalto hanno favorito un'impresa modificando il capitolato di gara ed attribuendo le punteggi elevati, in cambio di oggetti preziosi. Dalla azienda ospedaliera. Maggiore della carità di Novara, per la fornitura di distributori di divise e giacche in TNT, dove è stata sospesa la gara d'appalto e redatto un nuovo capitolato conforme alle richieste ricevute. Dalle ASL di Asti e di Alessandria, nonché dall'azienda ospedaliera SS Antonio Ebiaggio e Arrigo di Alessandria, per la fornitura di prodotti ed apparecchiature chemioterapiche, per la quale è emerso che diversi agenti ed incaricati di un'impresa modenese hanno consegnato, ad un membro della commissione della gara, a seguito dell'aggiudicazione di un lotto per la fornitura di beni, orchini in oro rosa e topazzi azzurri.